Sul Berga YouTube è presente una playlist dell'ultimano delicio classico, video di traduzione guidata degli autori, già una decina di video dedicati agli oratori attici, ora invece ne sto realizzando alcuni dedicati ai filosofi e Platone ed Aristotele in primo luogo ma poi altri ne seguiranno. La cadenza della pubblicazione settimanale a partire appunto dal gennaio 2024. Partiamo come al solito dal testo che abbiamo davanti, dalla Costituzione degli Atenesi di Aristotele, un passo che ha per protagonista Solone e la sua celebre Seisaxia, cioè lo scuotimento dei debiti, il celebre provvedimento che portò all'annullamento dei debiti contratti e fu anche un importante provvedimento per chi aveva valore retrattivo, cioè anche chi avesse contratto debiti in passato era ormai sciolto dall'obbligo della restituzione. Partiamo dall'analisi del testo, partiamo con l'analisi, il riconoscimento e l'analisi delle forme verbali. Genomenos è un participio, gen mi rinvia a egenomen, infatti il verbo in questo caso è gignomai, il cui auristo secondo è genomene, questo dunque un participio auristo medio. Il verbo dopo è eleuzerose, abbiamo il sigma, l'aumento, quindi un tempo storico, è un auristo sigmatico, questa omicron è l'allungamento di un omega, il verbo eleuzerò significa liberare. Poi abbiamo due forme interessanti, questo ento paronti, questo paronti è una forma sostantivata di un participio, il participio di pareimi, essere presente, infatti to paron, scritto con l'omicron finale, è un participio sostantivato, significa il presente. Anche to mellon, da mello stare per, è una forma sostantivata che si traduce con il futuro, in questo caso una forma di participio accusativo neutro. I significati sono cae ento paronti, sia per il presente, cae eis to mellon, sia per il futuro. Poi abbiamo colusas, zas, come pas, pasapan, colusas da colio, za mi dice che è un auristo primo sigmatico, un participio nominativo maschile singolare, daneizen, infinito presente, ezeche, bell'esempio da ezeca, capatico di tizemi, ezeche terza persona singolare. Poi abbiamo epoiese, l'aumento, il sigma, auristo primo, sigmatico. Poi abbiamo calusin, che invece è un indicativo presentativo e poi aposeisamenoi, che deriva, riconosco za, che è il suffisso dell'auristo primo, auristo sigmatico, il verbo è aposeio, che significa scuotersi di dosso, e sta bene perché poi tobaros significa il peso. Ritorniamo sopra, dunque eleuzeros è il mio verbo principale, il soggetto è solon, che è solone, di cui si dice con un participio congiunto genomenos curios, quindi divenuto signore ton pragmaton della situazione, sarà della situazione politica, quindi solone, divenuto signore della situazione politica, padrone della politica. E poi c'è un te che vale come cai, cai eleuzeros e ton demon, sia liberò il popolo, cai entoparonti, cai estomellon, sia nel presente che per il futuro, colio vuol dire impedire, quindi colisas avendo impedito, dopo aver impedito, daneizen di prestare denaro con garanzia e pitto isomasin sui corpi. L'espressione significa prestare denaro mettendo la garanzia sui corpi, vuol dire che se non fossero riusciti a saldare il debito sarebbero finiti schiavi. Sia questo cai qui, lo ricollego al cai, al te che diventa cai di sopra, sia nomus etzeche, promulgò leggi, perché tizemi con leggi vale promulgare, sia epoiese, fece, realizzò che cosa? Apocopas, tagli, creon, è un genitivo plurale da tocreos, che significa il debito, quindi realizzò tagli dei debiti, cai tonidion, cai tondemosion, sia privati, sia pubblici e questo has è un interessante pronome relativo, lo riconosci perché ha lo spirito aspro e si collega evidentemente a apocopas, che chiamano, sono i tagli dei debiti che chiamano, forma impersonale, oppure che si chiama zeisaxeian, scuotimento dei debiti, os, da valore soggettivo al participio, è una causale soggettiva, come se si scuotessero di dosso il peso. Proseguiamo, peirontai è da peiraumai, è un indicativo presente contratto, e diaballein è un infinito presente, sinebbe, interessante, è un verbo composto, il verbo di partenza e baino, di baino qui abbiamo Lauristo III, che ha sempre valore intransitivo, quindi ebesa, tipo feci andare, eben andai. Swimbaino, nella terza persona singolare, significa accadere, accadde, quindi ci sarà una proposizione infinitiva, abbiamo mellonti, che è un participio congiunto a soloni, stare per, e insieme cepoiein, e il verbo invece di sinebbe è qua giù, è un proeipein, che vale come infinito auristo secondo, lo riconosco per l'accento, proeipon è l'indicativo, e significa anticipare, il verbo dopo è parastrategezenai, verbo lunghissimo, qui c'è un zetaeta che mi dice che si tratta del suffisso dell'auristo passivo primo, qui invece c'è un eta che è un allungamento di un epsilon oppure di un alfa, ma se vado a cercare vedo che parastrategeo, nel passivo significa essere manovrato, e mi sta bene anche questo di a che arriva dopo, perché vale come un complemento da gente, da parte degli amici. Poi abbiamo hoibulomenoi, che è un participio sostantivato, coloro che vogliono, regge blasfemein, che è un infinito presente, e poi abbiamo ancora koinonein, che è un infinito presente da koinoneo. Ripartiamo, enhois vale come nesso relativo, come se fosse entutois, vale a dire in questa circostanza o a questo proposito, tines è il soggetto di peirontai, alcuni tentano di abballen auton, vale come pronome, tentano di calugnarlo. Accade infatti a solone, mellonti, participio congiunto, quindi lo rendo con una proposizione temporale per esempio, accade infatti a solone quando stava per realizzare lo scuotimento dei debiti. Proipen, di anticipare, tisi tongnorimon, tisi ed atis tinos, vedi che non è accentato, quindi vale come qualcuno, di anticipare ad alcuni dei nobili. Poi c'è un epeita, che è epez, questa zetta è la tau aspirata, e in seguito, e poi os men, sottolino il men, e poi anche il de, e in seguito accade che, come sostengono, c'era anche legusi da segnalare come predicato verbale, come sostengono i democratici, accade che fu manovrato dagli amici, oppure, o all'opposto, come sostengono, sottinteso, legusi, coloro che vogliono caluniarlo, accade che lui stesso, kai auton, in evidenza, koinonein, fosse partecipe, fosse, si fosse reso partecipe, prendesse parte. A che cosa? Lo capiamo subito dopo. Infatti, daneisame noi, dada neizo, è il verbo di sopra, all'attivo vuol dire prestare denaro, evidentemente in questa forma media vuol dire contrarre un debito, sineprianto, da simpriamai, è un imperfetto, genomenes, participio auristo secondo, da gignomai, al genitivo, perché concorda con tessa poco pes, insieme formano un genitivo assoluto, e poi l'ultimo predicato verbale è plutun, da pluteo, che significa arricchirsi, ed è un imperfetto, attivo contratto. La resa, dunque, costore, infatti, daneisame noi, dopo aver contratto debiti, acquistavano molta terra, polenhoran, kai metupolui, e non molto tempo dopo, è così che si traduce, sarebbe non molto dopo, avvenuto il taglio dei debiti, e plutun arricchivano, si arricchivano, e allora per intendersi, nella prima parte di questo brano si fa riferimento al cosiddetto scuotimento dei debiti, e nella seconda si mette in dubbio la credibilità di Solone, o da parte dei democratici, che dicevano che egli era stato aggirato, era stato manovrato dagli amici, oppure che, come sostengono i suoi detrattori, cioè i nemici, coloro che vogliono denigrarlo, fosse lui stesso partecipe di un piano, e il piano fu quello di acquistare molte terre, contraendo debiti, i debiti poi furono annullati, e le persone, grazie alle terre, arricchirono. Siamo arrivati al termine del nostro lavoro, con questo passo della Costituzione degli Atenesi di Aristotele, se il lavoro ti è parso utile ti chiedo un like, ti chiedo anche di dare più visibilità ai miei video, parlandone magari con i tuoi compagni di classe, e se non l'avessi ancora fatto, iscriviti pure al canale, per eventuali richieste approfitta degli spazi sotto la descrizione. Intanto, buon lavoro!